Lui è Frank e sta partecipando a un laboratorio musicale allestito in una casetta del villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia. Si tratta solo di una delle numerose attività organizzate con impegno dagli educatori della cooperativa Fabula Onlus per offrire a 20 ragazzi autistici dai 12 ai 20 anni tre settimane di vacanza in Molise. Loro arrivano dalla Lombardia ma anche dalla zona e sono stati coinvolti in un progetto ricco di significato. Permettere a questi ragazzi di vivere un'esperienza al di fuori del contesto familiare che gli permetta di migliorare le proprie autonomie e ovviamente anche quello di dare sollievo alle famiglie. Questi sono ragazzi che hanno grandi difficoltà, sono affetti da un autismo grave e con gravi problemi di comportamento che probabilmente risultano difficili da gestire nel contesto familiare. Laboratori di musica ma anche pittura, cucina, bricolage e piccoli lavoretti da riportare alle famiglie. Tanto lavoro e grande attenzione in ogni singolo gesto per i nuovi educatori impegnati tra il villaggio di San Giuliano, la spiaggia di Termoli e i paesi come Montelongo di cui è originario Valentino Macchiagodena che da cinque anni coordina l'iniziativa sul territorio. Le difficoltà sono in primis quelle di organizzare tutto il progetto, di organizzare tutto il campo, soprattutto poi quella di tenere i ragazzi occupati, di dargli una gestione del tempo e dello spazio, una struttura dove loro devono sapere quello che devono fare e quando lo devono fare. La loro risposta è sicuramente nel miglioramento della qualità della vita, nel miglioramento delle loro autonomie, del loro modo di essere e un senso di serenità che portano dietro alla fine del progetto. Per tutti un'esperienza da condividere. Noi educatori della fabola e insegnanti che lavoriamo nel progetto, alla fine del progetto ci sentiamo veramente realizzati dentro, ci sentiamo con un senso veramente di soddisfazione grandissimo. Poi voglio ringraziare tutta la comunità di San Giuliano, l'amministrazione e tutti coloro che collaborano con noi qui del posto, dalle signore che ci cucinano alla mensa, alla signora che ci aiuta nella pulizia delle casette, insomma tutti quanti quelli che aiutano noi e aiutano di conseguenza i ragazzi a stare bene. Grazie.